Vai, vai, vai con loro, vai! Allora, una partita possiamo dire a senso unico, dal punto di vista di risultato, però come divertimento? Come divertimento è stato bello, è stato molto bello. Ecco, l'importante. Voi? Ottimo! Ottimo! Siamo riscaldati, va! Ci divertiamo, ci divertiamo in questa palla al centro? Moltissimo! Sì, vai! Diamo messaggi trasversali, eh! Ci divertiamo in questa palla al centro? Ci divertiamo sempre! Jimmy, dai, un'analisi veloce veloce della partita, dai! Quando si erano cinque, c'hanno... si è fatto impossibile, poi dopo siamo arrivati, abbiamo iniziato a giochicchiare, ma ormai i giochi erano fatti. Alderigi, per te invece... Ma la partita, bravi tutti! Bravi tutti! Bene, bravi ragazzi e complimenti! Capitani, dai! Ti fai, vai, mi metta pure! Capitani, dai, voi! Capitani!